Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della coppia che scoppia vlog Allora facciamo innanzitutto un caloroso benvenuto a mia cugina Lina Grazie, grazie Il timer devi mettere che poi suona Ma quindi vince chi indovina più parole? Vince chi fa a indovinare più parole Due minuti a testa, siamo pronti? Via! Cosa? Abbiamo Destro O Sinistro Arto Fuori Sì, dalla Gabbia Cuore Fuori dalla gabbia tonacica Mi hanno attaccato alla spalla Era abbraccio, hai ragione Dove? Fisci Water No, lo sapevo, devi specificare Era bagno Cosa? Facciamo Voi Ad Palma De Viaggio Sì, uno, volevo dire ad agosto Che lo faceva a luglio, quindi avrei sbagliato, avrei detto Sardegna Cosa? Usi Per Bruciare Qualcosa? Fuoco Sì, vai Due Dove? Vai Quando? Devi Prendere Un Treno Stazione Aspetta però, fai finire Scusate, scusate Meno uno ragazzi Cosa? Fai Tu Quando? Devi Dimagrire Dieta Perfetto Cosa? Fai Ad Una Persona Che? Fa Il Combleanno Auguri Sì Madonna che sintonia Dove? Bevi Il Latte Tazza Le parole le ha scritte La mamma di Alice Quindi un applauso alla mamma di Alice Che è scritta là E non vuole farsi ritenere Però è scritta là Io in realtà adesso potrei anche fare finta di sbagliarle così loro hanno un punteggio in meno Ma io sono onesto e vedrete quante ne indovinerò Dimmi Chi va in guerra Facilissimo Soldati Giusto? Ma se devi dire il nome singolare Ebbè voi dovete dire singolare Alla fine dovete dire singolare Cosa? Bevi La Latte Latte Scusate Dai sono carico All'emozione Dove Ma cos'è? Il Soldato Guerra Bravo No bellissimo al contrario Cosa? Qual era quella di prima? Soldato Cosa? No quella al caffè Fai Ora Oddio Non lo so Faccio ora Posso riformare Aspetta cosa fai ora? Vediamo se ne dovina Che ne so Respiro Un No spero non ho detto Non mi sono prenotato Un Vai continuate Gioco Giusto Cosa? Suoni con Le Mani Tante cose ma pianoforte Bravo Cosa? Sei Tu Ragazzo Si sente ancora giovane Io non sono ancora un uomo Cosa? Hai Nelle Mutante Nelle 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 Dai Nelle Nelle Banche Per Per pagare No Soldi No Volevo dire No soldi Quindi denaro Denaro Mannaggia Eh denaro è difficile Doveva ti dire passo Dove Va A zero Raga Avete fatto zero Questa teniamola Adesso andiamo io alicia Vediamo la coppia che scoppa Vediamo la sintonia della coppia che scoppa Esatto Tra l'altro vorrei un po' delle tette È tutto grasso Se fossi magra non l'avrei Ci siamo Come? Apri La Porta Di Casa Maniglia Non importa dai 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 lezzo Bello Quale? Organo Ti Batte Cuore Cosa? Diventa Solido Acqua Ghiaccio Volevo dire cosa mangia tua madre Sì però qua dovremmo dire che non Questa la devo raccontare Perché tu non sei normale secondo me Allora La parola era ghiaccio Potevi dire tantissime cose Tipo cosa diventa Come diventa l'acqua quando si raffredda L'acqua a temperatura zero Cosa trovi come l'iceberg Tante cose Sapete che cosa voleva dire Alice? Cosa mangia tua madre? Perché mia madre ogni tanto mangia il ghiaccio L'avrei capito Ma non puoi Lei ha capito Lei ha capito Ma non importa Lei doveva capirlo E gli altri faceva dire Cosa? Scorre Nelle Vene Sangue No Loro eh non io Con Cosa? Tagli La Carta Formici Vai Come? Come? Perché come? Passo Ah avevamo anche il passo Si era ponte la parola Volevo dire dove Dove? C'è L'acqua Salata Ne avete due di parole No l'acqua Quella post No con l'apostrofo si può dire Ah scusa Salata Ok Mare Vai 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 Quale? Eh questo è Eh vabbè ragazzi abbiamo perso No ma scusami Ma come cosa lo dicevo? Come lo dicevo? No e io volevo dire Volevo dire cosa profuma Però cosa profuma tante cose Volevo dire quale Però che cos'è il fiore? Un organo? No quale No un organo è un Cosa hai petali? Un organo Raga facciamo veloce un secondo round Via Vai cosa? Regali Alina ti ricordi il vecchio metodo Cosa non è? Dimmi quando Passo 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 Cosa? Non è? Viaccio Ne? Vapore Acqua Eh sì giusto Vai Cosa? Non è? Carabinieri Polizia Sì funziona sto metodo Cosa? Non è? Ne? Bidello Ne? Passo Era professore Meno male che ho detto passo Cosa? È? Un? Vestito Lungo? Da? Sera? È? Da? Sposa? Non lo so abito Sì brava Veramente Cosa? Usi? Per? Respirare? Naso? Sì bravissima Animale Somiglia Ad Una Civetta Gufo Sì bravissima Vai l'ultima ce la facciamo Lavori? Con? Computer? Non? Ufficio? Bravissima No siete stati bravi pure voi ma Qualcosa non è? Quale? Cosa? Hai? In? Bocca? Lingua Che culo Potevo dire denti Cosa? È? Contrario? Di? Quadrato? Rettangolo? Nooo Triangolo Triangolo Eh però cosa non è quadrato anche triangolo non è quadrato Quale? È? Quella? Non lo so Dai dici Quella? Qual è quella? Cosa puoi dire? Qual è quella? Quella cosa? Quella cosa? Composta? Da? Tante persone? Gruppo? È giusto? Compagnia Dormi? Letto Cosa? Scompiglia? Vento Bravo Dove? Guardi? La tua immagine? Specchio Madonna sono una belva Cosa? Ha? Renato? Non ho capito cosa significa? Renato? Zero Nella? Non lo so Nella? Tu dici qualcosa Io continuo Nella? Triangolo Bravo Ma noi il triangolo no Lo sapevo Cosa? Fu La Invenzione Di Tanti Anni fa Luce? Lampadina Cos'era la macchina? La ruota Ah la ruota Cos'era la macchina? 100.000 euro Eh la ruota cosa però cosa Figa Mi sa che abbiamo vinto io e Lina Mi sa anche a me stronzetto Bellissimo Ci siamo raga soli Via Dove? Ti? Riposi? Al? Pomeriggio? Divano Brava mamma mia Quale? Fiore? A? I? Petali? Gialli? Girasole Bravissima Perché non potevamo dire sole capire? Quale? Animale? A? Il? Lungo? Struzzo Vabbè anche allo struzzo ci possiamo stare Con? Dai dai Cosa? Si Fa? La? Frittata? Uovo Si cosa fa la gallina? Uovo Vabbè va benissimo Dai 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 Cosa? Cade? Dall? Dall? Dall'albero Dall'albero Verde? Eva Apple? Steve Jobs Mela Mela vai Dove? Ascolti? La? Musica? Singolare Cuffia? Cosa? 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 Non è a posto di... Cosa? Usi Mettere I libri Mezzo di parole Ce la può fare Cosa? Non A? Cosa non è fratello? Sorella Cosa non ha Lina? Volevo dire Cosa non ha Lina? È dire sorella Perché siccome Lina ha tutto Tra una sorella Cosa? No ti impeli tutto No Troppo forte Ti impeli tutto Ti impeli No ti prego Ti impeli Questo cane che vuole Questo cane che vuole Tu non fai con l'allergica ai gatti Sì infatti dopo averlo Però lo amo Io lo amo Bene ragazzi allora Questa challenge ormai È finita un po' così alla buona Con il cane che mi sale sulle gambe E ti impela tutto E mi impela tutto Tuo termine da mandare alla crusca Impela Magari è giusto Hashtag impela Se il video vi è piaciuto Ale quanti like devono lasciare? Dicci Ma almeno 200.000 Come minimo C'è Non siamo pretenziosi Ma vogliamo il giusto 200.000 Faremo Non so neanche se faremo 200.000 visualizzazioni Ma voi lasciate 200.000 like Seguiteci in tutti i social Allora salutiamo Anna Vittoria 037 Poi Ciao vice 37 Arianna Dea 7 Anche questa col 7 Ciao Arianna Ciao Arianna Ciao Sofia Carmilli 06 Io saluto il nome più figo di tutti Manu Bello Figo Ciao ragazzi Mi raccomando Seguiteci Attivate la campanella Bravo Se sono attivate la campanella Non si tratta più Ciao ragazzi Ciao Ciao